Oddio, oggi sto per farvi rendere conto di tutto il pubblico che è presente Oh salve, oddio, siamo arrivati vero? Ok, ma da dove si scende? E' pazza, è pazza Oddio Mi sarà valsa la pena Sì dai Noi abbiamo evitato tutta quella fila Ma andiamo a vedere dove è la stronza Eccora la stronza, la stronza è proprio qui E mi voglio fare la foto Pronta per fare il video di ritorno Il video di ritorno Mi prenderò per il culo Gioca ricca La colpa è di questa stronza Stronza Stronza, 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 stronza Siamo nella casa del signore Non si dicono queste cattive parole Non ti dicono Siamo lo scarafaggio Scolettiamo Passa, passata. Ma no, tu no, io devi contare se canta. Dani, avanti, fai la serie. No, no, se fai così, bene. C'è uno scarafaggio. No, mi sei fermato. No, no, forza, Dani. Ma ora che ci penso, lo scarafaggio lo vedrò anche io. Ma c'ho pure quella donna. Ma Dani, non te consiglio. Sì, no, 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 no. C'è uno scarafaggio, no, no, no. Schiaccieremo uno scarafaggio. Te pensate che è scena. Ma è proprio brutto. Ma dai, se ne tega, è molto indica che ho un muccello. Ma è vlatta. Ma non lo so, non lo devo schiacciare, disco Andy. No, schiaccia. Un assassino, in casa di Cristo. Dai. Un'assassina! Ma... ci si muove ancora? Ci sei? Eh, eh, sì... No, è perfetta che non ti scrivi da una bimba minchia. Io sono una bimba minchia, fai il culo! Io già sono arrivata. Sei arrivata? Io vado a fare la prima. Ma che fine, ma sei pazza? Ma come? E tu che mi offri da mangiare? Mi hai offerto questa? Mi hai offerto questa salita di merda. Ti rendi bello, le sorelle in grada. Ho visto una collanina che mi piace tanto, perché non me la compri? Ma dove? Ma su internet. Oh! Comunque noi siamo arrivati. Sì, no! 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 Grazie.